ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi la vigilia di juventus contro sassuolo di sassuolo contro juventus e alle ore 12 parlerà massimiliano allegri per analizzare no la partita io non riuscirò purtroppo a seguire la conferenza stampa di allegri quindi non ci sarà il solito video che facciamo dopo la chiacchiera di allegri con la stampa purtroppo è domenica è una giornata particolare che devo trascorrere in famiglia dovrò trascorrere in famiglia quindi cerco di portarvi un altro contenuto che abbiamo analizzato abbiamo creato insieme sul canale twitch e che secondo me è molto importante perché uno dei problemi principali di questa juve probabilmente allegri come nell'ultima conferenza stampa tornerà a parlare di questa cosa qui la juventus fa pochi gol la juventus continua a segnare pochi gol in realtà questo video è il continuo la parte numero due di un altro video che avevo portato a fine dicembre forse a metà dicembre 18 dicembre una roba del genere in cui vi facciamo vedere gli ultimi gol collezionati confezionati dalla juventus in tot partite e allora ho pensato da quando abbiamo acquistato dujan vlaovic e zaccaria è cambiato qualcosina ci sono state delle migliorie e allora cerchiamo di analizzare tutti quelli che sono stati gol e cerchiamo di capire come sono stati creati questi gol per darci anche un attimo un'idea di quali sono le azioni più efficaci della juventus in che modo dobbiamo muoverci per valorizzare al meglio i nostri attaccanti o comunque i nostri giocatori che sottoporta sono più freddi rispetto a quegli altri diciamo così se siete tutti pronti iniziamo la prima parte sarà un riassunto grafico di quelle che sono state le ultime reti da quando abbiamo appunto fatto il cambio a gennaio fuori kuluseski e bentancur dentro vlaovic e zaccaria e dimenticavo anche il buon anno ramsey che è uscito questo qua ormai l'avevo proprio scordato vi dico subito che da quel giorno sono passate 15 partite tra serie a coppa italia e champions league in queste 15 partite abbiamo segnato 22 gol e ne abbiamo subiti 13 quindi insomma numero un po così la media di gol a partita è 1.4 se può questo darvi un po di orgoglio di soddisfazione abbiamo leggermente migliorato la media gol con vlaovic e zaccaria rispetto a quel vecchio video che avevo fatto a dicembre non stiamo parlando di chissà cosa un minimo miglioramento c'è stato però abbiamo secondo me delle cose in cui alla fine arriveremo a dirci wow è il riassunto perfetto così siamo più efficaci così siamo meno efficaci ora vi riassumo graficamente proprio con le immagini gli ultimi 22 gol segnati dalla juventus è la sverona il primo gol è di bala in verticale per vlaovic il secondo gol è morata in verticale per zaccaria sassuolo il primo gol è alexandro da sinistra per mckenny che svirgola palla che arriva di bala in area gol il secondo è vlaovic che lotta come un leone dall'esterno sinistro arriva in area tira e procura l'autogol contro l'atalanta danilo su calcio d'angolo calciato da di bala torino delit su angolo calciato da quadrado villareal andata danilo lancia in verticale per vlaovic empoli il primo gol rabbio crossa da largo a sinistra per moise ken il secondo quadrado da destra dentro per vlaovic il terzo morata parte largo da sinistra si accentra e in verticale per vlaovic fiorentina andata di coppa italia quadrado da destra crossa autogol di venuti con lo spezia recupero di rugani sull'invio del portiere tutto di prima vlaovic locatelli in orizzontale per morata che da sinistra conclude sampdoria quadrado da destra crossa e crea genera l'autogol il secondo è un rigore di morata che si era procurato invece moise ken terzo gol locatelli da destra crossa sul secondo palo morata di testa salernitana scambio tra vlaovic di bala per vie centrali e gol di paolo per il secondo cross di desciglio dalla destra gol di vlaovic di testa cagliari quadrado da sinistra posizione inusuale cross per la testa di delit chiude tutto di bala che va in verticale per vlaovic bologna morata in rovesciata per vlaovic gol di testa fiorentina ritorno di coppa italia cross da sinistra di morata gol di bernardeschi da centrodestra chiude i giochi quadrato da destra che crossa per il gol di danilo ok magari ve li ricordavate però era giusto darvi una spolveratina per fare capire anche a chi magari qualche gol l'aveva dimenticato non so se avete notato delle costanti perché tante volte vi ho detto questo giocatore che arriva da quella posizione fa questa determinata cosa e poi c'è quell'altro giocatore che invece fa quindi abbiamo già una linea guida in tutto ciò provo a riassumervela così i gol nati dall'esterno sono otto i gol nati per vie centrali con la costruzione però dall'esterno sono due i gol nati per vie centrali con costruzione interna sono sei gli autogol addirittura sono ben tre e non sono pochi tre però sono comunque a parte forse quello divenuti gol che ci siamo meritati perché ok ne avrebbe fatto gol sul secondo palo con la sampdoria o comunque vlaovic ha tirato in ha trovato la deviazione sul calcio piazzato due due colpi di testa uno di danielo con la taranta e uno di delit nel derby è soltanto un calcio di rigore quindi già questi sono numeri un po particolari che ci fanno capire però che dall'esterno su 22 gol ne sono nati ben 10 per vie centrali soltanto sei tre autogol che sono nati praticamente tutti dall'esterno e tre calci piazzati quindi due calci d'angoli un calcio di rigore prova a mettermi anche questa tabella che è quella riassuntiva generale in cui per ogni partita vi dico quanti gol abbiamo fatto quanti gol abbiamo subito tutti i dati che servono la tipologia di gol come è stato costruito e tutto quello che ci serve sapere più che altro uno dei punti secondo me fondamentali giunti a questo punto è cercare di capire come massimizzare vlaovic perché vlaovic comunque ha fatto il suo fino adesso in queste 15 partite qui in sovraimpressione vi lascio i dati di vlaovic con la juventus 15 partite appunto disputate 1257 minuti 7 gol 7 gol in 15 partite è un ottimo bottino soprattutto se pensiamo che questo ragazzo ha 22 anni e ha iniziato a giocare con la juventus da un paio di mesi quindi vlaovic sta assolutamente facendo il suo però notiamo che per massimizzare vlaovic serve servirlo sulla profondità paolo dibala che gli dà la palla per il gol all'esordio danilo che lo lancia nella profondità per il gol contro il villareale al suo esordio in champions league sempre paolo dibala che lo dà in profondità contro il cagliari morata in profondità contro l'empoli oppure per vie centrali o per vie esterne con un cross di desciglio dalla destra che gli becca la testa per un cross quello di morata sebbene rovesciata da una parte e arriva e gli becca la testa quindi abile nel gioco aereo oppure lo stesso quadrato che dalla destra lo libera e poi con una finta riesce a trovare il gol come possiamo vedere comunque vlaovic ha due possibilità o gli dai la palla mentre lui attacca la profondità e quindi dai una bella palla in verticale oppure te la lavori sugli esterni la metti in mezzo perché lui è anche abile nel gioco aereo quindi sono tutte caratteristiche qua rientra in gioco anche un vecchio video che avevo fatto dicendovi è meglio due esterni a supporto di vlaovic o un giocatore che gli sta vicino una seconda punta come dibala che lo può servire ecco proprio qui entra proprio qui in gioco perché dibala l'ha servito già in due occasioni sulla profondità e dibala e vlaovic non hanno giocato insieme chissà quanti minuti per via dei problemi fisici di paolo e poi se pensiamo comunque dibala tra poco andrà in scadenza e che quindi non giocherà più con vlaovic capiamo che serve allora un giocatore simile dibala che possa imbucarlo sulla profondità oppure un giocatore come dibala che gli sta vicino che quando lui gioca spalla la porta allora vlaovic si appoggia su questo calciatore che ha la possibilità poi di creare qualcosa lui con un tiro dalla distanza con un dribbling con un imbucata per un compagno però un giocatore che quando vlaovic spalla la porta venga lì a raccogliere appunto lo scarico di vlaovic oppure dei giocatori che dall'esterno siano così bravi a creare la superiorità numerica o mettere un pallone interessante per far sì che vlaovic possa impattare ovviamente guardando la porta non rimanendoci spalla la porta perché se no diventa un po complicato quindi mi viene da dire se abbiamo un giocatore come paolo dibala negli ultimi metri in grado di servire un passaggio efficace è un conto se no siamo una squadra che purtroppo deve sfruttare gli esterni che sia locatelli che crossa perché si è decentrato che sia quadrado che dribbla l'uomo punta l'uomo crea la superiorità numerica che sia d'esciglio che dall'esterno prova a metterti un cross che sia un calcio d'angolo un piazzato dato che comunque siamo riusciti a segnare anche un paio di gol proprio con questa tipologia è ovvio che dobbiamo lavorare sulle vie esterne facciamo un po fatica noi in questo momento dal centrocampo a creare il passaggio in profondità a creare il lancio lungo a creare gioco lì in mezzo e dato che su 22 gol ben 10 sono andati la costruzione esterna capiamo che quello è il nostro punto forte e se ci sono giocatori come appunto dibala bravi a giocare tra le linee allora c'è anche questa possibilità qua che non deve essere la principale che deve fare in modo che la palla possa girare da un esterno all'altro andando a trovare il punto debole la zona debole degli avversari perché ovviamente se la palla è a destra gli avversari sono portati a scivolare verso destra se tu fai un cambio gioco a sinistra è più difficile che possano arrivare anche loro lì quindi cambiare lato andare sul lato debole gli avversari e poi mettere un pallone in mezzo per Vlaovic che è bravissimo ad attaccare l'area di rigore e ce l'ha fatto vedere con queste statistiche che sono assolutamente ok per il suo esordio la Juventus però c'è un piccolo però la Juventus per quanto mi riguarda segna ancora poco perché 22 gol in 15 partite 14 partite quelle che sono secondo me non sono tanti una media di 1.4 è ancora troppo poco questi sono punti di partenza è cercare di capire quali sono i nostri punti forti perché se sai che tutti i gol che fai o comunque la maggior parte dei gol che fai vengono costruiti con questa tipologia allora devi cercare di massimizzare il tuo gioco per arrivare a ricreare quella situazione nella quale sei abbastanza bravo poi ovviamente ci sono stati gli infortuni le squalifiche il momento decisivo e magari non eravamo pronti una marea di variabili un'infinità però in fase di finalizzazione questo è quello che la nuova Juventus quindi da quando è arrivato Vlaovic a quando è arrivato Zaccaria è stato in grado di fare fatemi sapere se avete delle idee per migliorare questo score e secondo voi cosa dobbiamo andare a replicare con maggiore insistenza per cercare di fare ancora più mano agli avversari magari a partire proprio dalla partita di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo a Reggio Emilia contro il Sassuolo